Si stanno lentamente dissolvendo, per tornare vento, terra e nutrimento, le opere di Humus Park, realizzate dagli artisti nel mese di maggio al Palù di Livenza e nel Parco del Castello di Torre a Pordenone. Ed è tempo di fare il bilancio di un'edizione particolarmente ricca e complessa. L'assessore comunale alla cultura, Claudio Cattaruzza. Il progetto si è allargato, abbiamo avuto un incremento sia di presenze delle accademie di belle arti e di numerosi altri artisti internazionali, per cui la manifestazione sta crescendo, è diventata anche una best practice a livello regionale e quindi confidiamo per il prossimo futuro, quindi per la prossima edizione, di fare ancora meglio di quanto abbiamo fatto finora. Doppio lavoro di coordinamento e organizzazione anche per i direttori artistici Gabriele Meneguzzi e Vincenzo Sponga, per i quali è importante non solo la qualità artistica, ma anche l'aspetto didattico e la trasmissione del sapere ai giovani. Il fatto di avere molti giovani partecipanti significa avere la possibilità di portare molti giovani vicino alla natura, cosa che al giorno d'oggi, secondo il nostro punto di vista, è un po', non voglio dire dimenticata, ma bypassata dai computer, da tutte queste cose ormai elettroniche che non sono dentro di me ancora, e quindi questo è quello che vogliamo fare, al di là di questo ci sono stati gli interessi allargati dei comuni e delle scuole stesse che hanno chiesto di partecipare, quindi direi bene.